Capitolo 2. Mio padre aiuta. Risultato aiuto zero. Capisci di essere da troppo tempo un semidio quando vieni risucchiato dalla tua scuola direttamente nell'oceano atlantico e non sei nemmeno sorpreso. Non cercai di oppormi alla corrente. Sott'acqua sono in grado di respirare, quindi quello non era un problema. Rimasi tranquillamente seduto sulla seggiolina di plastica azzurra e sfrecciai lungo l'impianto idraulico privato di Poseidone, marchio registrato, trascinato da uno tsunami di 5 miliardi di litri di acqua marina. Non feci neppure in tempo a dire che schifo, che ero già schizzato fuori dal fondale come se un mollusco mi avesse risputato. Mentre la nuvola di sabbia intorno a me si posava, cercai di orientarmi. Il mio senso nautico mi suggeriva che ero circa 60 chilometri a sud-est della costa di Long Island, a una profondità di 60 metri. Non ho un grosso problema per un figlio di Poseidone, ma mi raccomando ragazzi, voi non provateci. Un centinaio di metri davanti a me la piattaforma continentale si inabissava nel buio e proprio sul precipizio sorgeva uno scintillante palazzo, la residenza estiva di Poseidone. Come al solito mio padre stava ristrutturando. Chissà forse quando sei immortale e ti stanchi di avere lo stesso appartamento per secoli. Con Poseidone era sempre un gran sventrare, rinnovare o ampliare. Il fatto poi che quando si trattava di progetti di edilizia sottomarina avesse praticamente potere infinito e manodopera gratuita aiutava parecchio. Una coppia di balenottere azzurre stava trainando una colonna di marmo delle dimensioni di un condominio. Squali martello spalmavano malta con le pinne e la testa appiattita tra file di mattoni di corallo. Centinaia di sirene e tritoni sfrecciavano avanti e indietro, tutti con gli elmetti giallo brillante che si abbinavano agli occhi luminosi come fanali. Mentre nuotavo attraverso il cantiere, un paio di loro mi salutò. Un delfino con un gilet di sicurezza fosforescente mi diede il 5. Trovai mio padre vicino a una piscina a sfioro ancora in costruzione che si affacciava sull'abisso del Hudson Canyon. Che senso avesse sott'acqua a una piscina a sfioro non mi era chiarissimo, ma fui abbastanza saggio da non indagare. Mio padre era già un tipo freddo in generale e mettere in discussione le sue scelte stilistiche non era mai una buona idea. L'abbigliamento, per esempio. Ad alcune divinità greche che avevo conosciuto piaceva trasformare il proprio aspetto su base giornaliera. Ovvio che potevano farlo, essendo, beh, divinità. Poseidone, invece, si era fissato su un look che per lui funzionava, anche se non funzionava per nessun altro. Quel giorno indossava pantaloncini cargo stropicciati in tinta con le crocs e i calzini. La camicia a maniche corte sembrava essere stata il bersaglio di una battaglia di paintball tra la squadra dei purple e quella delle hello kitty. Il berretto da pesca era orlato di esche rotanti. In una mano un tridente in bronzo celeste pulsava di energia, facendo ribollire l'acqua intorno ai tre minacciosi rebbi. Con la sua costituzione atletica, la barba scura e i ricci sale e pepe, gli potevi dare 45 anni, fino a quando non si voltava a sorriderti. Allora notavi sul suo viso i segni del tempo, come solchi sul fianco di una montagna, e il verde intenso e malinconico dei suoi occhi, e ti rendevi conto che quel tipo era più vecchio del mondo. Potente, antico e oppresso da un peso ben più grande della semplice pressione dell'acqua. Persi, mi salutò. Papà, ci capita spesso di avere conversazioni profonde come questa. il suo sorriso si irrigidì. Com'è la nuova scuola? Ricacciai in gola l'impulso di sottolineare che avevo seguito soltanto due lezioni prima di essere risucchiato e scaricato in mare. Per ora tutto bene. Non dovevo essergli sembrato convincente, perché lui aggrottò le folte sopracciglia. Mi figurai nuvole tempestose che si formavano lungo la costa atlantica, barche che dondolavano su onde rabbiose. Se non è all'altezza posso sempre mandare un'onda di marea. No, no, la scuola è a posto, dissi in fretta. Senti, a proposito di quelle lettere di presentazione per il college, Poseidone sospirò. Sì, Eudora si è offerta volontaria per farti da counselor. Ella ne reide dei doni del mare, capisci? Ama aiutare le persone. Ma forse avrebbe dovuto aspettare un po' prima di informarti. In altre parole, ora doveva farlo lui e la cosa non gli andava a genio. Se avete concluso che Poseidone è il tipo di genitore io non metto becco, avete vinto il pupazzetto. Fino a che non sono arrivato alle medie quando, per puro caso, ha avuto bisogno di me, non lo conoscevo nemmeno. Ma ora andiamo d'accordo. So che, a modo suo, mi vuole bene. È difficile per gli dèi essere vicini alla propria progenie mortale. Noi semi dèi non viviamo a lungo rispetto a loro. Agli occhi delle divinità siamo un po' come dei criceti. Criceti che vengono uccisi con una certa frequenza. E poi Poseidone aveva un sacco di altre cose a cui pensare. Governare oceani, gestire fuoriuscite di petrolio, uragani e irascibili mostri marini, ristrutturare le sue svariate dimore. Voglio solo entrare alla New Rome University, spiegai. Non è che potresti... agitai le dita, cercando di suggerire una magia divina che potesse far sparire i problemi. Non che avessi mai visto una cosa del genere. Gli dèi sono molto bravi a crearli i problemi più che a farli magicamente sparire. Poseidone si ravviò i baffi con la punta del tridente. Giuro che non so come facesse a non affettarsi la faccia. Sfortunatamente quelle lettere di presentazione sono il meglio che potessi ottenere, disse. È l'unico modo grazie al quale il consiglio degli dèi dell'Olimpo ti permetterà di saldare il tuo debito. Comunicare sott'acqua è complicato. In parte traducevo le sue parole dal canto e dai click delle balene. In parte sentivo la sua voce nella testa per via telepatica, quindi non ero sicuro di aver capito bene. Non ho nessun debito scolastico, protestai. Non sono nemmeno stato accettato ancora. Non un debito scolastico, precisò Poseidone. Si tratta del debito perché esisti. Il mio cuore sprofondò. Intendi per essere figlio di uno dei tre pezzi grossi? Tuo figlio? Poseidone lasciò vagare lo sguardo in lontananza, come se avesse appena notato qualcosa di interessante nell'abisso. Mi aspettavo quasi che gridasse, guarda cos'è quella cosa che luccica? E poi sparisse mentre mi giravo. Circa settant'anni prima i tre maggiori dèi dell'Olimpo, Zeus, Poseidone e Ade, avevano stretto il patto di non generare più figli semidei. Eravamo troppo potenti e imprevedibili. Tendevamo a scatenare grandi guerre, provocare disastri naturali, creare brutte sitcom e via dicendo. Essendo divinità, trovarono comunque il modo di infrangere il patto senza mettersi nei guai. E così siamo sempre stati noi figli semidei a farne le spese. Pensavo che questa storia l'avessimo superata, mormorai. Vi ho aiutato a combattere i titani, lo so, confermò mio padre, e Gea e i giganti, lo so, e... figlio mio, l'inflessione della voce mi fece capire che sarebbe stato meglio smettere di elencare i miei più grandi successi. Se dipendesse da me, revocherei del tutto questo ridicolo requisito. Qualcuno, invece, ahimè, è fissato con le regole, alzò lo sguardo. Qualcuno era la parola in codice per il mio irragionevole fratello Zeus. Non saresti mai dovuto nascere, quindi, tecnicamente, non sei idoneo per la New Rome University. No, non potevo crederci. O meglio, sì, potevo assolutamente crederci. Proprio quando pensavo di potermi prendere una pausa, ecco che non potevo. Gli dei dell'Olimpo sembravano considerarmi il loro punching ball personale. Rilassai la mascella per evitare di digrignare i denti. Quindi tre lettere di presentazione. Poseidone si illuminò. Zeus voleva che fossero venticinque. L'ho convinto a scendere a tre. Sembrava in attesa di qualcosa. Grazie, brontolai. Non puoi scriverne una tu, vero? Sono tuo padre, sarei di parte. Per carità niente favoritismi. Sono contento che tu capisca. Per guadagnarti ciascuna lettera dovrai intraprendere una nuova impresa. Tutte e tre dovranno essere completate prima del solstizio d'inverno, termine per la presentazione delle domande. Ogni volta che un dio te ne scriverà una la darai a Eudora e lei la inserirà nel tuo fascicolo. Provai a pensare a quali divinità potessero non essere troppo severe e assegnarmi missioni semplici. Nel corso degli anni avevo aiutato molti immortali. Il trucco era trovare qualcuno che si ricordasse che lo avevo aiutato, o anche solo che ricordasse il mio nome. Potrei chiedere a Hermes, o magari ad Artemide. Oh, non puoi andare a chiedere agli dèi. Dovranno venire loro da te. Ma non ti preoccupare. Poseidone sembrava decisamente soddisfatto di sé. Mi sono preso la libertà di mettere il tuo nome nella bacheca delle imprese dell'Olimpo. La che? Poseidone schioccò le dita e tra le mani gli apparve un volantino giallo fluo. Era un annuncio con la mia foto e il seguente messaggio. Percy Jackson si accollerà alle vostre imprese in cambio di lettere di presentazione per il college. La parte inferiore del volantino era stata suddivisa in tanti piccoli rettangoli, ciascuno con il mio indirizzo di casa. La foto sembrava scattata da dietro allo specchio del mio bagno, il che sollevava un sacco di domande inquietanti. Capelli bagnati, occhi semi chiusi, uno spazzolino da denti che spuntava dalla bocca. L'hai già pubblicato? Constatai. Non è stato un problema, mi assicurò Poseidone. L'ho anche fatto attaccare dai miei spiritelli marini su tutto il monte Olimpo. Sono decisamente grato, mi posò pesantemente la mano sulla spalla. Lo so, e so anche che non ti aspettavi questo ostacolo in più, ma pensa, una volta entrato al college la tua vita sarà molto più semplice. I mostri non attaccano quasi mai i semidei più grandi. Tu e la tua ragazza Annabeth, sì, tu e Annabeth potrete rilassarvi e divertirvi. Poseidone si raddrizzò. E ora mi sembra che la mia interior designer mi stia chiamando. Non abbiamo ancora deciso se le piastrelle del bagno saranno in schiuma di mare o acqua marina. È stato meraviglioso rivederti, Percy. Buona fortuna con le imprese. Batte il tridente contro le pietre del patio. Il pavimento si aprì e io fui risucchiato di nuovo attraverso il fondo dell'oceano, questa volta senza nemmeno una sedia di plastica su cui sedere.